E fu così che tre naufraghi della PCS da cui sto facendo vedere la faccia Giuseppe Cargiulo, Salvatore Mauro. Ok, come andiamo. They are rescued, big boat coming. Andiamo, andiamo. Che ci fai? E vai che vuoi spegnere il piano? Che fai? Oh, no, 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 no. No, 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 no. E qui si sente le cose come ora. Vabbè? No, non ci? zwei gira. Sì. Oh, yes. Youtube. Rema, reba. Il sole è mio, sta in fronte a me oh sole oh sole vai 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 su quel canale sai che c'è c'è da bastello su youtube su canale che c'è che c'è oh sole ah lo coi che c'è ne puoi facciamo io li puoi farci che c'è che c'è che tu ti muoلى ma sei questo ci è un po' di vetture fino a questa cima non vuole andare non ce la faccio ma vedi come ce la diametriano e come fino all'opera con il Yamaha a 25 cavalli su un off shore si mi agì sto motore avevo 1951 quindi ho il peggio accello da motore posizione a cazzotto e fu così che caccio cavallo devo montarlo qua al culo stampa cavallo non va non va che l'erba cresce c'è qualcosa che non va si perde anche il coperchio il motore ti sei ingolfato Peppino senti che puzza ma male che è calmo male qui ci vuole cosa? si ok ho un po' un po' un po' un po' un po' un po'